Ascoli il giorno dopo del carnevale, la città sembra ritornata alla sua normalità e così è, si mettono da parte le maschere che ci hanno fatto divertire e ritorniamo al nostro vecchio volto. In realtà quel tempo che viviamo adesso, la Quaresima, serve per riscoprire il nostro vero volto, non un volto mascherato e neppure il vecchio volto di sempre, ma il nostro vero volto. Il nostro volto è quello di figli liberi e amati di Dio, questo ci dice Gesù. Ma talvolta i nostri mascheramenti, oppure la nostra vecchiaia interiore, l'uomo vecchio è l'uomo segnato dal male, dal peccato, ci riportano nel buio. Abbiamo invece bisogno di essere illuminati nel volto, dalla luce che viene dall'alto, dalla luce di Dio. Gesù risorto, veramente risorto, è presente in mezzo a noi, espande la luce del suo spirito sul volto di ogni uomo, solo che gli uomini talvolta si mascherano, oppure talvolta gli uomini sono legati al volto del loro uomo vecchio. Invece la Quaresima serve per mettere da parte tutto questo e farsi illuminare da Dio. Come ci arriva la luce di Dio? Prima di tutto attraverso la sua parola, che in Quaresima meditiamo con abbondanza. I Vangeli della Domeniche di Quaresima sono oggetto di una meditazione continua, in modo particolare attraverso la Stazio, la predicazione del Vescovo, la Domenica, le Domeniche di Quaresima, per poterli riprendere e approfondire. Quest'anno le Stazio saranno in alcune chiese della montagna e in alcune chiese della vallata. In città, il lunedì, Madre Sofia a Santo Nofrio e Don Francesco, svilupperanno l'ascolto della parola di Dio della Quaresima, illuminati dalla parola di Dio. Il secondo punto è essere illuminati dalla verità. Che cosa voglio dire? Intendo dire che talvolta noi ci raccontiamo tante storie e invece siamo chiamati alla verità di quello che siamo. Ci sono degli aspetti di noi che ci piacciono e altri che non ci piacciono. Dobbiamo guardarli in faccia, davvero. Così il nostro volto è quello vero. Niente maquillage, niente trucco, niente aggiustamenti. Il nostro vero volto, la nostra vita così com'è, ma che si lascia illuminare e trasformare da Dio. E questo è il senso del digiuno quaresimale. È il digiuno soprattutto dalle tante stupidaggini che raccontiamo a noi stessi. Il digiuno di tutto quello che ci appesantisce il cuore e ci spinge al male. E il terzo elemento che ci può illuminare sono gli altri. Gli altri con la loro vita, con i loro bisogni. È il senso dell'elemosina. Una parola che significa provare compassione per gli altri. Provare cura degli altri. Una cura che nasce dall'amore. Allora anche l'elemosina ci riporterà a noi stessi. Ci permetterà di comprendere che nel nostro cuore sono presenti gli altri. La nostro cuore è fatto del contributo degli altri. E che gli altri sono l'oggetto dell'attenzione del nostro cuore. Soprattutto quando sono più poveri e più vulnerabili. Una preghiera piena di parola di Dio. Un digiuno per ritornare a noi stessi. Un'elemosina per prenderci nuovamente cura di cuore degli altri. Ed ecco che il volto si illumina. Ed ecco che la grazia dello Spirito ci avvolge. Ed ecco che la nostra vita è trasformata. Vivremo così la Pasqua sentendo la sua forza, la sua efficacia, l'efficacia dello Spirito di Gesù risorto, a partire da 40 giorni prima. I giorni di Quaresima. Buona Quaresima a tutti.